Grazie a tutti Operatic pop, un nuovo genere? Un nuovo genere? No, è un genere che canta anche Bocelli, Il Volo, quindi questo genere qui Però, allora dopo ti sentiremo, che cosa fai? Che pezzo fai? Un pezzo tuo o un pezzo... Farò un brano estrapolato dalle frasi dei ragazzi diversamente abili di due associazioni Una di Taranto, Associazione Italiana Persone Down e una della Lombardia APL, Associazione Paraplegici Lombardia I ragazzi disabili hanno scritto delle frasi e dei pensieri che sono stati estrapolati e sono serviti per questa canzone Che si intitola Gli Angeli C'è chi non riesce a vivere, che è stanco anche di vivere, ma noi restiamo qui Gli Angeli E non aver paura, noi siamo pronti a raccontare chi fa l'amore Stastorocchie che non si può rischiare, che non si può correggere, lascia sul ruoto il cuore E pensa che noi pochissimi mesi fa e lui abbiamo fatto a Sorresina il concerto dei ragazzi Down, di Sorreso Ah, bello, complimenti, è sempre bello mettersi in gioco e soprattutto far mettere in gioco i ragazzi Perché in loro ho comunque notato una certa forza e mi piace collaborare con queste associazioni Hanno sicuramente molto più forza di noi, forse Certo, certo, giusto Perfetto, ci vediamo tra poco sul palco Va bene, grazie 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 Grazie